Buongiorno a tutti, questa notte mi è venuta in mente questa idea, visto che questo imbuto è stato fatto anche per lavorare senza il dragonfly, quindi poggiare il materiale su questa parte dell'imbuto e usare mille righe come spia e questa parte qua sarebbe stata inutile, visto che non si è da aprire il dragonfly, quindi abbiamo messo la rampa qui e la canalina con un'altra trappola, quindi la canalina in questo caso è lunga 100 cm, 105 cm, ok? Adesso vi mostro tutte le parti, aspettiamo un secondo, questa è la parte dell'imbuto, questa è la parte del dragonfly e queste sono le due parti che possono comunque arrivare a 90 cm, ok? E 75 cm, ok? Quindi divido in due, si presenta così, nello zainetto, adesso vi mostro, adesso si mette qui e la mettiamo a 75 cm, la mettiamo a 75 cm perché adesso andiamo ad aggiungere. e poi e adesso andiamo ad aggiungere con il luto con la sua rampa con le stesse viti che dobbiamo per colcare la rampa del dragonfly teniamo molle dobbiamo infilare sotto il tapetino vediamo andiamo a mettere qui e andiamo ad aggiungere andiamo a mettere qui abbiamo tenuto la canalina tradizionale con i mille righe su rampa e chiaramente il dragonfly cominci a smette questo si adopera senza il dragonfly quindi adesso se vogliamo adoperare il dragonfly con l'imbuto si può anche fare si spostano le trappole avanti adesso ve lo mostro però prima vi voglio mostrare la seconda parte della vasca quindi togliamo via questo andiamo a spostare in questo caso rimane corta da 75 cm se ne togliamo due e qui ci va con l'alloggio per il dragonfly e veramente andiamo a mettere il suo ferro e rimane da 75 cm con l'alloggio del dragonfly ok la vogliamo fare da 90 cm e e e e e e e e e l'allungata e aggiungiamo una trappola e aggiungiamo una trappola aggiungiamo l'ultima trappola e abbiamo ottenuto la canalina per il dragonfly per la 90 cm e e e e e e e e e ecco e abbiamo ottenuto la camionera da 90 cm per l'alloggio adesso se non abbiamo corrente anziché ad operare la canalina così con il dragonfly andiamo ad aggiungere la vasca è obbligatorio non 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 L'alasca e qui sono due viti di soldi e abbiamo ottenuto la nostra vasca per bossare l'acqua nel dragonfly vediamo anche qua i suoi piedini questa la puoi utilizzare dove vuoi dove c'è acqua corrente dove c'è acqua con poco corrente dove c'è il materiale che è impossibile da lavare dove ci sono delle pozze d'acqua perché i fili dentro questa puoi puoi lavare anche come apprezzo d'acqua e quindi Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.